Burrani, oggi su Minecraft andremo a craftare l'hack di AggyVoogie, guardate che bella, è pure animata. Che cosa ci permetterà di fare questa cosa? In primis dobbiamo craftarla e si crafta contornando un blocco di redstone con dei blocchi di lapis... Ciao, ciao, tutto bene? Sì, tutto bene, tutto a posto. E cosa farà quest'hack ragazzi? Semplicemente darà mining fatigue, quindi la difficoltà nel minare e soprattutto ci darà blindness. È una cosa incredibile, speriamo che vada bene, anche perché AggyVoogie o AggyVaGy, lui è nell'oscurità. Io schiaccio inizia, va bene? Siete pronto? Ho iniziato! Io scavo qua sotto, sotto lo suo proprio. Non ho iniziato proprio. Raga, raga. Perché mo? Allora ragazzi Io è tantissimo tempo Che non chiedo i mi piace nei video E oggi non li chiederò Non li chiederò Tanto non si vedono più Quindi è inutile che li chiedi Io non li vedo più da un bel po' No niente stavo dicendo che oggi Volevo raccontarvi di quella volta Anzi in realtà ho fatto la storia su Instagram ieri Ma siccome le stories non tutti le possono guardare Ho deciso che vi dirò Cosa mi è successo ieri mattina Allora niente Praticamente sono andato Sono andato in studio Se avete visto la mia stories voi lo sapete già Stavo sorridendo perché mi era venuta un'idea geniale Per dei video raga ma proprio una bella idea Che capita raramente Di avere delle belle idee Che sei sicuro che possono funzionare Ed ero tutto sorridente in macchina Tutto contento Il tizio di fianco a me cosa fa Abbassa il finestrino E mi dice ma che cabbo c'hai da ridere Di mattino Ma era adulto Ho avuto 40 anni Magari era uno scherzo Ti conosceva che ne sai No 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 Non è uno scherzo per niente Ma va che 40 anni Ho tanta gente No no ma proprio questo qui Convinti mi fa Ma che cabbo c'hai da ridere di mattino Cioè porca miseria Ma io devo lavorare Tu stai ridendo Cioè hai ragione Ha ragione E tu cosa ti hai detto No no ma Sono rimasto di stuccaro lì che continuavo a ridere Come un ebete E vabbè niente Questa è la situazione Mi riso in faccia Vorevo Sì in realtà sì Io riso in faccia Eh sì raga perché stavo continuando a ridere io perché Ero tutto felice delle mie azioni Ma che tupirla Ma veramente guarda Oh diamanti Un periodo complicato Ma che cosa è un periodo complicato Dicembre Ma come è un periodo complicato Che stia a dire È impazzito questo Ma tu sei scino Fino al 23 è complicato Poi diventa bello Poi diventa bello Vabbè che tu sei in quinta giustamente Ti volevo ricordare che quest'anno c'hai gli esami Guarda grazie Allora per tutti i ragazzi di quinta superiore che mi seguono E anche di terza media in realtà Posso dirvi una cosa Ma andate sciali Gli esami sia di terza media che di quinta Sono delle cavolate totale ragazzi Non avete neanche idea Io avevo un'ansia pazzesca per l'esame di maturità Poi alla fine si è dimostrato che Era una cacata Possiamo dirlo raga Possiamo dirlo tranquillamente Possiamo dirlo tranquillamente Un pochettino effettivamente Mi ha messo ansia Ma non ci deve essere tanta ansia ragazzi Se studiate abbastanza Se seguite durante l'anno Easy Easy Nico ti sei disperato da questa affermazione E va bene E ha perso tutti i materiali Non ho perso niente Perché Nico è bravo e mette la kip E insomma E quindi niente Dicevi che hai paura di questo esame di quinta Ma in realtà questa cosa non l'ho mai detto Ho spiegato che è stressante il periodo È stressante perché comunque sai I video vanno così A parte quello Cioè vi rendete conto che fra una settimana Dovete iniziare a pensare ai regali? Io non faccio regali Io non faccio regali Vabbè ma non si può non fare in famiglia neanche un regalo In famiglia sì ma io sono già avanti Tu sei quello che ricicli i regali? No io sono quello che durante l'anno Li vede l'idea E se la scrive Perché almeno ho l'idea pronta per le prossime volte Ragazzi io sono proprio avanti Oppure tipo lo faccio prima Lo metto da parte Magari c'è un'offerta Ma io sono quello più indietro ragazzi Nico? Ah contiene automatico Non ho manco capito Allora io quello che vi posso dire di base Se posso Se mi posso permettere No se mi posso permettere E che esattamente Quando scoccano i dieci minuti Può succedere qualcosa di strano ragazzi Ho messo Ho messo un hack Ho messo un hack Che funziona su tutti però stavolta Quindi È brutta Un boost No non è un boost È un hack negativa È un malus Bello mi piace Il termine malus È proprio interessante Sai che è malus Nico menico blue up In che senso? Malus No non era questo È un malus Secondo me è stato loco ragazzi Non so perché Ma è il malus Hai fatto sparare un creeper Gincino a lui Il loco 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 L'hai fatto per caso Sta cosa No È lo zombie Ha dato un foglio in testa Esattamente Wow Bello questa cosa Ma fantastico Che bello Tutto bene Allora Ragazzi È una situazione complicata Perché sto cercando Un lapislazolo Perché voglio Voglio avere tutti i materiali Ok Voglio avere tutti Posso L'apis diamanti e re Sono tutti vicini Bro Bro E lo smeraldo E lo smeraldo non ce l'ho Non ce l'ho Ma se ce l'ho lo smeraldo No ce l'avevo Ma prima l'ho trovato Ah noi quando sono morto Per prendere lo smeraldo Giustamente Sono i primi Ma tenei metti i diamanti Io ne ho 9 Come fa nico ad avere 7 da punti E ha appena trovato i diamanti Perché ne ha appena trovati 8 Te l'ha appena detto Bisogna stare attenti Nella vita Aveva già molti più punti Rispetto a noi senza diamanti E va bene perché sta lasciando Sta facendo un sacco di branch mining Sto accettando Oh mio dio Ragazzi vorrei dei diamanti Per provare a battervi Ma trovo solo della rezz Ma si può questa cosa Ma io non me ne ero corto di questa cosa Oh Anche voi raga Cosa Raga Che cosa Ma c'ho blindness Io no Perché ce l'ho Perché ce l'ho Io Ok ora ce l'ho anche io Ho mani in fatica X Ma cos'è Non ho capito questa cosa Del fatto che Non si può scavare No io non ce l'ho mani in fatica Io si X Non posso fare niente Ma è finita Io ora si Ok Va bene Perfetto Perfetto Ogni quanto scoccano No si ce l'ho anch'io adesso Dai ce l'ho ancora Non vale Raga Sembra che sono contro uno scherzo Non posso attaccarlo Aiuto Raga non scava proprio piccolo È impossibile Comunque ho trovato altri diamanti Non ho esattamente 22 In questo momento E quindi mi sto Mi sto avvicinando Ecco non posso scavare Dai non vedo niente È impossibile A me il blindless Non mi dà tanto fastidio È più il mining fatigue E mi dà fastidio A me dà fastidio tutto Sinceramente Ah si Ah si Ah si Ti dà fastidio tutto Ah si Ah si Sono morto nella lap Ti piace come sarà Allora ho provato a cittare Devo dirvi la verità Cosa Ho provato a fare F3N Per salvarmi Perché non la vuole di riscendere di nuovo Però Te lo concedo È giusto È giusto Mi potete rimettere la NigtVision Per favore 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro Ma perché loco 9 mila punti No 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 Perché loco 9 mila punti Ragazzi non vedo niente Aiuto A me no Io non ce l'ho Stavolto Aiuto Mi potete Mi potete dire come siete messi Per favore Vale Non trovo niente Lo vedi Lo vedi a destra Hai ragione Ma perché lo concedi Ma ti ho detto che loco A caso decide Dice le cose E vedi Vedi A quanto vanno questi diamanti Scusate Comunque ragazzi Allora io vorrei dirvi una cosa Voglio sapere nei commenti Se volete che in un video di minecraft Dele gare di scavo Loco faccia giocare sua nonna Sì ti prego Lo facciamo Ci state Ti prego per favore Ti prego per favore E gli insegno a giocare A mia nonna Cioè che problema c'è Il problema c'è dai Stai dicendo che mia nonna è stupida Non so giocare mai No Mi risorgio Come ora Come internet Come Insensibile Nobile Indecente E vabbè E Nico L'hai combinata questa volta Non vedo niente Non vedo niente E vabbè Assieme diciamo le cose Cioè come siamo messi adesso E sto cieco Bellissimi Ho trovato lo smeraldo No basta Nico E scusa che ho sbagliato comando Ho trovato lo smeraldo Ma guarda Ho sbagliato comando Sì 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 oro Oro Non vedo niente Raga non vedo niente Tu vuoi puoi esplodere Non vedo niente Non posso fare putti 12.000 12.000 12.000 Non ho capito Non vedo niente Non vedo niente Ragazzi 10.920 Sto arrivando March is arriving March is arriving Eri primo No 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 Eri primo E Nico Non sei più quello di prima Sei cambiato Creeper Ah Poi sono fatto un sacco di danno Ah sì Ma lo sai la tua pratica Va benissimo Da che diamanti Cavare a livello 8 Ci sono tantissimi Ma va Non lo sapevo guarda Adesso che me l'hai detto Vado a livello 8 Benchmainando Attenzione Ma loco Ma stai branchmainando Non ci sono caverne No loco Devi fare F3 Andare in una caverna Posso? Cioè No non puoi Tu metti farlo È troppo tempo Vabbè ormai L'ha fatto Ha perso tempo Sì vabbè Ma 13.000 Dai che sono in me Succoso Però la redstone Non dà tanto ragazzi Ricordate quando la redstone Era il life changer È perché In realtà adesso La redstone Ti dà solamente uno Di redstone Eh certo Prima ne dava 4 Eh beh Ma che penso Oh diamanti Diamanti Vediamo se ti riesco Da aggiungere un pochettino Attenzione ragazzi Diamanti Life changer Diamanti per marci Quanti ne hai trovati 8 8 diamanti 8 diamanti Per marci 8 diamanti Per marci A me non aiuta nessuno No Non sa bene Il life changer Devi fare di usare il life changer Usa il life changer Come si fa E devi andare a livello Oh diamanti Diamanti Ancora life Ancora life Ancora life Mi hai fatto la gratitudine Cioè mi hai laggato il computer Praticamente Cioè Incredibile Era un axe Un lapislazoli Buoni lapislazoli Oh altro smeraldo Si Si è troppo avanti ragazzi C'è Assolutamente ma se qui c'erano i lapis Vuol dire che ci potrebbero essere i diamanti In questa zona No Non funziona Non funziona più sta cosa No Non funziona Non funziona Diamanti Diamanti Funziona di brutto Funziona Incredibile Vediamo se ti supera Vabbè raga potete guardare il video Non ho citato niente stavolta Ecco Io non vedo niente Ma in fatica Io non ce l'ho ma in fatica Ma perché io sei tu l'ho A me non ce l'ho Io non ce l'ho Io non ce l'ho Io non ce l'ho Uuuu Come le fat clear La seccia Eh adesso Mi sono un po' esagerata Questa cosa Eh adesso me lo faccio Stai un po' cittolando Abbiamo tutti gli stessi malus Tu non puoi non averli Ecco adesso non vedo niente Diamine a voi Diamine Me l'avete chiamata voi Sono morto di nuovo Vabbè niente Oggi Non ce la faccio Però stavolta Siccome loco Prima ha usato un cheat Vado anche in f3 E vabbè io sono l'unico stupidino Che in realtà non lo uso ora No adesso lo puoi usare Ok lo cerco allora No non è che puoi giocare la caverna Puoi andare sotto Della prima che trovi disponibile Oh questo fa Guarda che carina Ma se non c'è gli diamanti No no c'è l'oro Vabbè l'oro non è male In realtà ti dirò Ok loco Sei tanto vicino a me Lo sai Dove sei Marci No dico di livello di punti Diamanti Siumma No 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 Non ci posso credere Non ti ritrovare 8 basta 8 basta Ma scusa ma Come fa? Ma ci sono troppo Ti prego il diamante Il diamante Il diamante Lava Devi fare la roba lì Di andare a livello 8 E scavarti sui lati Funziona solo per voi Ma non è vero Guarda se nei prossimi 3 minuti Un minuto Trovo degli altri diamanti Ho vinto Mannaggia Vabbè su quello in realtà Ho vinto a prescindere Allora Diamanti Ma no Altri 8 Altri 8 Come troppo Diamonds Ho sparato Ho sparato Non ci posso credere Non ci posso credere Ragazzi Non ci posso credere Ho un minuto e 15 Per trovare gli diamanti Se non trovo dei diamanti Ho perso ufficialmente Ma Benchimane Non si trovano un sacco Eh io non ho branchimaneato Tantissimo Forse si oggi Ho un pochino Se ho branchimaneato Eh mannaggia Dai ragazzi Non sono stato indietro Rispetto a loco Porca miseria Adesso arrivo eh Arrivo Ma che arriva Cosa vuole Arriva che io Hai già perso Ragazzi Trotti lapis Vuol dire che qua c'è dei diamanti Non vuol dire È impossibile Sì sì Ti prego ti prego ti prego No non sto trovando niente raga Non ci credo 40 secondi Nelta direzione marcia 40 secondi 40 secondi di follia Per trovare dei diamanti Per marci La follia Esiste Ma mi state soppurando tutti Un diamante Ho trovato un diamante Ma come ho trovato Anch'io Anch'io Però sono uno davvero No Ho due Tre No Ho mani fatica infinita No Dai No Io sono visibile adesso Ho mani fatica infinita Dai No Questo non ho trovato io Mi dispiace Secondo me sotto il compare Tu Ok Ok Mi sa che ha vinto loco raga Ha vinto loco A meno che non trovi Diamanti in questo esatto momento Ma non è possibile Che ho mani fatica infinita Non posso più scavare Diamanti Oddio Non ci posso credere Non ci posso Se 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 Diventi Ma ci ho capito Ma anche con mining fatica Riesce a vincere Che ho dato mining fatica infinita Quel ragazzo Diventi Fu No raga Guardate Guardate il video Epico Dico Se non trovi diamanti Scavo diamanti Ciao Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti